Colleghi e colleghi, è un piacere chiaramente avervi diciamo tutto qua e cercherò di modo, mi auguro breve e chiaro, di dare una problematica che come persone che eseguiamo questa professione è la domanda più frequentemente che ci fa una donna, cioè quando partorirò, quale sarà il giorno diciamo del mio parto. Ed è chiaramente un quesito diciamo estremamente frequente che tutti noi operatori del settore, le donne sarebbe ideale se sapessimo io partorisco il 4 di maggio, il 4 di maggio mi metto libero e vado a fare questo tipo di problematica. Varie possibilità ci sono, l'astrologia, la luna eccetera eccetera, il cosiddetto regolo stetrico che in realtà diciamo ci fa essenzialmente sulla base appunto di una datazione ecografica ci fa dire qual è il termine della gravidanza. Essere però a termine della gravidanza nella specie umana non vuol dire essere il giorno del parto, che sappiamo benissimo che alcune donne tendono a partorire prima della data prevista e altre tendono a partorire diciamo dopo. La valutazione diciamo del collo dell'utero è normalmente quello che viene utilizzato nella pratica clinica quando uno ha una paziente presso il termine e dice quanto mancherà diciamo per il momento del parto. Ed è indubbio che è una metodica come vedremo decisamente diciamo interessante. Vedete diciamo questo esempio, immaginate che voi appunto clinicamente state valutando diciamo questa donna, vedete una cervice completamente conservata, una lunghezza sicuramente sopra i 3 centimetri, come tale questa paziente è abbastanza improbabile che entri in travaglio. Clinicamente probabilmente avete già delle buone intuizioni, avrete un collo rigido, non ancora diciamo particolarmente anteriorizzato e rigido. La stessa paziente con la stessa lunghezza diciamo del collo dell'utero che però voi andate a valutare clinicamente, vi sembrerà sempre un collo diciamo assolutamente lungo ma vedete molto chiaramente come esistono delle modificazioni all'interno del canale cervicale che indubbiamente fanno sì che questa paziente possa essere completamente differente dall'altra paziente. Esistono meta-analisi su tutto, Gabriele Saccone quando era negli Stati Uniti ha fatto questa meta-analisi con diciamo Vincenzo Berghella, tutti italiani ma in realtà fatti diciamo a Filadelfia, i quali hanno dimostrato una cosa diciamo su meta-analisi, con tutti i limiti che hanno diciamo questi studi, che essenzialmente una donna che aveva una cervice meno di un centimetro partoriva essenzialmente entro una settimana, se invece la cervice era oltre 30 mm era abbastanza improbabile che partiva. Questo studio come tutte le meta-analisi aveva diciamo una serie di limitazioni, studi completamente eterogenei, donne che avevano già partorito con multipare, situazioni differenti cliniche che davano un'idea ma indubbiamente avevano un peso specifico nella pratica diciamo abbastanza bassa. Perché è importante sapere quando una donna partorisce? A parte diciamo per essere comodo un esempio più classico è il timing di un taglio cesareo elettivo. Sappiamo tutti come è preferibile o obbligato a non farlo prima della 39esima settimana perché prima di quest'epoca il rischio che il bambino possa avere delle patologie di tipo respiratorio aumenta in modo significativo. chiaramente se noi facciamo la pratica classica in cui diciamo programmiamo una donna che deve fare un taglio cesareo elettivo, non entriamo nelle indicazioni, a 39 settimane avremo sicuramente una certa percentuale di donne che entrerà in travaglio prima e quindi come tale creerà diciamo un taglio cesareo da elettivo a urgenza che in alcuni setting può essere anche un'emergenza diciamo o diciamo aumentare diciamo questo tipo di problematiche ed è in dubbio che un intervento d'emergenza ha sempre una maggiore morbidità. La letteratura porta come addirittura un terzo delle donne programmate per un taglio cesareo elettivo partoriscono prima della 39esima settimana che vengono date. Noi un po' di anni fa abbiamo fatto diciamo questa esperienza, abbiamo preso appunto un gruppo di donne che dovevano appunto fare un taglio cesareo elettivo, gravidanze singole, le programmavamo in ogni caso come da protocollo per 39 settimane per fare il taglio cesareo e nella nostra popolazione il 15%, quindi una su sei, entrava in travaglio prima. Siamo andati a vedere com'era la cervice diciamo nei due gruppi e vedete che pur con una certa overlapping fra i due gruppi, quelle che partivano prima tendevano ad avere una cervice più corta. Per chi ama la statistica avevamo trovato un cutoff di 24 mm che permetteva abbastanza bene di stratificare le pazienti che partorivano prima rispetto a quelle che partorivano dopo. Questa è una pillola diciamo quindi di saggezza. Perché siamo tanto ossessionati come ostetrici dal fatto che la donna diciamo partorisca tra virgolette il prima possibile dopo la 39esima settimana? Perché indubbiamente sappiamo che più che va avanti diciamo la gravidanza tanto aumenta il rischio di una potenziale complicazione diciamo del fetto che è quella che realmente ci fa paura. Il concetto delle 41 settimane che dopo 41 settimane compare il rischio in realtà è stato diciamo modificato già da tempo. Vedete questo è un classico indice fatto da Gordon, un grosso autore inglese nel 2001 il quale dimostrava con un sistema diciamo statistico abbastanza complicato che non vi spiego perché mi confonderei anch'io come essenzialmente però il rischio per i Natale che vuol dire essenzialmente morte del feto in utero o patologia diciamo asfittica grave essenzialmente tende ad aumentare dopo la 39esima settimana. Sulla base di questi dati e non diciamo 41-42 come la normale diciamo semiotica dice sulla base diciamo di questi dati indubbiamente c'è un grosso aumento delle induzioni di cui dopo il professor Pilo vi parlerà. Questo vedete è l'ultimo rapporto CEDAP è del 2018 ma non ce n'è nessuno più recente e vedete come la media di induzione in Italia è il 25% quindi una donna su 4 viene indotta diciamo questo tipo di cosa. Esistono delle variazioni regionali vedete il Lazio è ultimo con 9% di induzioni ma non perché siamo virtuosi ma perché abbiamo nel 27% dei casi le schede non compilate quindi è probabile che i numeri diciamo sono gli stessi. Siamo nel Lazio quindi diciamo. Sta di fatto che appunto lo stato dell'arte in Italia e in Europa e nella maggior parte dei paesi salvo gli Stati Uniti come vedremo che una donna su 4 a termine viene indotta. Ci sono evidenze che nelle donne indotte a 39 settimane ci sono dei migliori outcome materni e neonatali e questo è basato su questi due studi. Il primo e il più importante è quello su New England che è il cosiddetto ARRIVE che vedremo in breve che ha dimostrato che nelle nullipere se le induciamo a 39 settimane va bene per tutto. Più recentemente è uscito questo secondo lavoro sulle multipare in cui dimostra che gli effetti sono gli stessi. Cosa succede se diciamo andiamo a indurre a 39 settimane? Vedete qui c'è i tagli cesari e diciamo l'aucam per i Natale vedete che nelle donne che sono indutte a diciamo 39 settimane contrariamente a quello che come ostetici pensiamo il numero di tagli cesari non aumenta ma anzi diminuisce 19 verso 22 ed è una differenza significativa e c'è un lieve in questo studio non significa aumento miglioramento, scusate, degli outcome per i Natali. Diciamo questa è stata fatta poi una meta-analisi mettendo dentro tutto sempre dallo stesso autore Gbrodman e ha dimostrato in modo significativo che in dura 39 settimane invece che aspettare nella popolazione americana di nullipare si riducevano alcune componenti diciamo per i Natali negative si riduceva l'incidenza di tagli cesari e si riduceva chiaramente quella quota di patologia ipertensiva tardiva che compariva appunto andando avanti col tempo che visto nell'ambiente americane erano costi eccetera eccetera. Su questo l'ACOG ha fatto quello che in Italia si dice gettiamo il sasso e leviamo la mano ciò ha detto che indubbiamente se induciamo le nulli per 39 settimane riduciamo ogni mille casi una morte intrauterina non ci sono ancora evidenze vere se lo dobbiamo fare davvero però se la donna ci richiede forse è meglio farlo. Lo stesso ACOG ha una pagina per le donne in cui fa le classiche diciamo domande a cui le donne vedete e diciamo vedete come anche questo diciamo è tutto sommato abbastanza pro dice puoi considerare la 39 settimane perché questo ti fa avere meno problemi discutene col tuo ginecologo se farlo o non farlo e scegli un ospedale che possa fare questo tipo di problemati e quindi diciamo un qualcosa di estremamente diciamo positivo. Chiaramente ci troviamo di fronte a questo tipo di cosa abbiamo 39 settimane, abbiamo una nullipara decidiamo di indurla in modo universale quindi tutta 39 settimane come molti ospedali o ma negli Stati Uniti stanno facendo o aspettiamo. Chiaramente ancora una volta il problema ai costi e all'organizzazione perché sappiamo tutti che è un'induzione indubbiamente molto più impegnativa come tempo, come tutto rispetto a quello che è una donna che entra in travaglio a 4 cm durante la notte diciamo e partorisce. Gli americani calcolano tutto e essenzialmente hanno fatto questo calcolo. Questo sono il numero di nullipere che ci sono ogni anno negli Stati Uniti se le induciamo tutte abbiamo dei vantaggi riduciamo di 55.000 casi i tagli cesari riduciamo di 79.000 casi le patologie ipertensive evitiamo 795 morti intrauterine quindi indubbiamente importanti. Quanto ci costa? 2 bilioni più di dollari di spesa ostetrica. Chiaramente nessuno lo può affrontare questi erano dati subito prima del Covid se lo andiamo a chiedere a qualche d'uno ha maggiormente da noi questo tipo di problema. Il dato però a mio avviso importante è che se noi pensiamo di indurre tutte le persone sono